Una squadra che è quasi come un orologio svizzero e ragazzi tutto ciò si trasforma in questo tipo di occasione Vedete lì il portatore della palla, in questo caso la palla andrà per vie centrali, gol di Ossiman E alla cima di questo gruppo, expected goals, qui il Napoli è la squadra con il maggior numero di expected goals in media Spesso capita, no? Inizio di stagione così entusiasmante, emozionante, quel giocatore è un fenomeno, quella squadra vincerà la vita Infatti oggi parleremo del Napoli, più di un esperto o presunto tale si è espresso a favore dei partenopei Napoli, squadra più forte d'Europa o quantomeno più divertente, più in forma Ragazzi vediamo se effettivamente tutte queste affermazioni ad oggi possono essere considerate veritiere Infatti vedremo statistiche, paragoni, confronti, clip, video, tutto ciò che contraddistingue questo canale Fatemi sapere ovviamente anche le vostre opinioni Ovviamente prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche E lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre Passate su Emiscouting per quanto riguarda tutti gli altri social Il sito internet per i corsi di Match Analysis e Scouting Se volete diventare osservatori, Match Analysis, Data Analysis, fare questo di lavoro Software professionali, offerte di lavoro nel mondo del calcio Ragazzi, ultimissimi posti per i corsi del prossimo mese Trovate tutte le info qui in basso in descrizione Lo stesso per quanto riguarda tutti gli altri social Ma, ma, ma Parliamo di questo Napoli che sicuramente ragazzi bene sta facendo E fin qui credo che siamo d'accordo tutti Lo dice la classifica, lo dice quelli che sono stati i punti raccolti in Champions League Però possiamo parlare effettivamente di squadra più forte, più entusiasmante ad oggi d'Europa Come sempre iniziamo con qualche dato per contestualizzare la situazione Dato che ci fornisce Instant Partner ufficiale dei nostri corsi Vediamo un po' quelle che sono le medie per partita I numeri del Napoli attualmente confrontati con le medie di tutti gli avversari del Napoli Innanzitutto, gol segnati in media 2.9 per partita Contro un gol segnato in media dagli avversari Occasini da gol create 10 per il Napoli in media per partita 3.8 per quanto riguarda gli avversari Anche per quanto riguarda il possesso Media a favore del Napoli Lo stesso per quanto riguarda la produzione di tiri e tiri in porta 19 tiri, 7 dei quali importa Tutte medie per partita Expected goals lo stesso 2.8 in media per partita Contro l'1.09 in media degli avversari Anche per quanto riguarda tutte le varie percentuali di successo Napoli superiore alle avversarie Quindi fin qui un primo passo lo abbiamo mosso Napoli statisticamente superiore alle squadre affrontate Quindi produce di più Gioca di più Vince il 55% dei duelli Quindi fin qui si può dire Napoli finora superiore alle avversarie Ma non è tutto qui perché bisogna fare anche un confronto con le altre superpotenze europee Infatti ecco qui un confronto con l'Arsenal Capolista attualmente in Premier Real Madrid capolista attualmente nella Liga Bayern Monaco secondo Ma per quanto riguarda la produzione Prima squadra di Germania E poi il Manchester City Perché che fai? Non metti il City È la squadra più forte nel mondo Guardiola che fai? Ma non hai messo il City Non mettiamo il City Facciamo un paragone con tutti E vediamo che per quanto riguarda le occasioni da gol La squadra è seconda solo al Bayern Monaco Con 10 occasioni in media create per partita Azioni riuscite Squadra che con l'Arsenal è la quarta di questo gruppo Quindi primo il Manchester City con 86% di precisione Tiri capolista il Napoli di questa mini classifica Con 19 tiri in media per partita Per quanto riguarda i tiri precisi Anche qui il Bayern Monaco è alla cima di questo gruppo Expected goals Qui il Napoli è la squadra con il maggior numero di expected goals in media Per partita con 2.8 Il Napoli primeggia anche per quanto riguarda la precisione dei cross Fattore importantissimo Anche per quanto riguarda i duelli vinti Duelli vinti in difesa Anche qui il Napoli è capolista con un ricco 60% Non brilla invece per quanto riguarda la percentuale di dribbling riusciti in media per partita Quindi anche qui abbiamo avuto un confronto con delle superpotenze Napoli che offensivamente insomma fa la voce grossa Per quanto riguarda la media degli expected goals per partita Grande precisione per quanto riguarda i cross La squadra più precisa di questo gruppo Anche per quanto riguarda i duelli vinti Quindi abbiamo visto che in alcune statistiche il Napoli non primeggia Ma sicuramente ragazzi possiamo affermare che fa la voce grossa Quindi statisticamente un Napoli che possiamo collocare attualmente per il momento lì Nel gruppo delle superpotenze europee Ma noi non è che ci fermiamo qua Anzi ragazzi facciamo parlare il campo Allora vediamo un po' perché effettivamente il Napoli sta facendo così bene Avvicinandoci a quella che è la valutazione finale di squadra migliore sempre attualmente in Europa Innanzitutto partiamo dal concetto dei duelli vinti Una squadra che sì è bella da vedere quando ha la palla Lo vedremo Ma quando non ha la palla è una squadra altrettanto efficiente In questa slide ragazzi vediamo velocissimamente che innanzitutto non si rintana l'indietro Durante la fase di non possesso Ma viceversa fa partecipare tutti i reparti in quella che è l'azione di recupero della palla Infatti vediamo a partire dalla destra la difesa Lì sempre attenta per quanto riguarda la situazione In quello spazio lì dove vanno a pressare tutti Abbiamo un terzino quindi un altro componente della difesa Un mediano e una mezzala centrocampo ed anche l'ala Quindi tutti i reparti impegnati durante questa fase La fase di non possesso ed è per questo che il Napoli riesce ad essere efficiente Ed andiamo a vedere il perché di questa efficienza Vedete il Milan non una squadra qualunque lì Provare ad offendere, a sviluppare la manovra Grande pressing di gruppo portato dal Napoli Che recupera questa palla Quindi qualità della squadra a partire dalla fase di non possesso Fase di non possesso ragazzi importante per quanto riguarda il Napoli Parliamo anche di quella che è la struttura della squadra A livello individuale con l'innesto soprattutto di Kvarazkelia Il Napoli ha aggiunto un certo tipo di qualità per quanto riguarda la superiorità numerica Quindi la creazione di pericoli Abbiamo visto precedentemente gli expatter goals Ora il Napoli non solo ha una struttura di gruppo Che comunque bene o male durante le varie stagioni ha sempre funzionato più o meno bene Ma inizia ad avere anche individualità importanti come Kvarazkelia Che in questo caso, lo vediamo lì all'opera Fare più cose, creare superiorità numerica E donare al Napoli sempre più di una possibilità In questo caso freccia verso l'esterno Che rappresenta la possibilità di servire un compagno O una freccia che va direttamente verso la porta Quindi abbiamo visto un giocatore che la sa passare Crea un piede caldo, crea superiorità numerica Fattore Kvarazkelia importante Perché importante? Perché fa queste robe qui Crea superiorità numerica, crea situazioni di gioco In questo caso sparerà questo tiro verso la porta Ho usato un'espressione spagnoleggiante Ma ce la facciamo andare bene Quindi altro fattore a favore del Napoli Abbiamo visto un'altra roba che secondo me viene un po' sottovalutata La percentuale dei cross Quest'anno il Napoli per quanto riguarda i cross Insomma sta facendo vedere un certo tipo di precisione Abbiamo visto che la squadra più precisa Tra le top squadre europee del momento Che abbiamo messo a confronto precedentemente Qui ragazzi anche qui il Napoli sta segnando spesso su cross Sta mostrando efficienza Quindi un altro fattore tattico di questa squadra Da non sottovalutare Passiamo infine alla lettura di quella che è la fase di sviluppo E soprattutto finalizzazione della manovra Dove lì il Napoli ragazzi Diverte, convince, vince Quando un giocatore è in possesso È lì che il Napoli secondo me fa divertire Sia dal punto di vista tecnico Ma anche dal punto di vista tattico In questo caso palla lì centrale Vedete ragazzi praticamente almeno due opzioni facili Quindi sempre un passaggio verso l'esterno Ed uno in profondità Volendo c'è anche l'altra mezzala che si inserisce Volendo ancora c'è l'altro terzino sulla destra Che si propone Passaggio comunque forse un po' più complicato Qui movimenti senza palla Sincronizzazione tra passaggio e movimenti Quindi una squadra che è quasi come un orologio svizzero Ragazzi e tutto ciò si trasforma in questo tipo di occasione Vedete lì il portatore della palla In questo caso la palla andrà per vie centrali Gol di Ossiman contro il Bologna Affrontato da poco Quindi tirando una linea finale Possiamo affermare che attualmente il Napoli è la migliore squadra d'Europa Ragazzi mi sbilancio Forse la migliore no Ma la metterei lì al primo posto insieme al Sidi Che comunque ragazzi delle robette le sta facendo vedere Non mi vengono in mente altre squadre da mettere lì sullo stesso piano Almeno per quanto riguarda quello che è l'inizio di stagione Quindi secondo me ragazzi attualmente il Napoli rappresenta questa roba qui Come sempre fatemi sapere qui in basso nei commenti cosa ne pensate Ne parleremo insieme L'analisi di oggi finisce qui Come sempre spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like e condividetelo se vi va E' stato un piacere enorme passare questi minuti con voi Un salutone e al prossimo appuntamento Di solito faccio fatica a dire Squadra più forte del mondo Giocatore più forte del mondo Ma i numeri sono quelli Il campo dice quello Eh 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 eh